Sto pensando di cercare un nuovo lavoro. Qualche consiglio su come iniziare? Certo, ci sono alcune cose che puoi fare per iniziare la tua ricerca di lavoro. Tipo cosa? Innanzitutto, è necessario aggiornare il curriculum e il profilo LinkedIn. Quindi, inizia a fare rete e a contattare le persone del tuo settore. Quanto è importante fare rete nella ricerca di un lavoro? Molto importante. Molti posti di lavoro vengono ricoperti tramite referenze e contatti personali. Quali settori stanno crescendo in questo momento? Secondo il Bureau of Labor Statistics, l'assistenza sanitaria, la tecnologia e le energie rinnovabili sono tra i settori in più rapida crescita. È bello saperlo. Che mi dici dello sviluppo della carriera? È importante continuare ad apprendere e sviluppare nuove competenze per rimanere competitivi nel mercato del lavoro. Quali sono alcuni modi per farlo? Puoi seguire corsi online, partecipare a conferenze o partecipare a workshop e programmi di formazione. Grazie per il consiglio, mi sento più preparato a iniziare la mia ricerca di lavoro ora. Siete i benvenuti. Buona fortuna con la tua ricerca! Grazie per la visione!